non gioco a stacker da praticamente un anno aspettative zero però ultimamente sto guardando un sacco di partite quindi vediamo vediamo come va spero di non beccare tutti i Terran perché ultimamente si comincia a giocare Terran i giocatori nuovi cominciano a giocare Terran e io dico perché potete anche cominciare come Zerg o Protos ecco vedi tanti tanti giocatori Terran so che Clem è probabilmente il campione attuale il più forte quindi giocano Terran e i Terran sono belli e è bello uccidere gli Zerg però no 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 che abbiamo fatto SQP pronto Sì, che c'è? SCP pronto! È arrivato il tristo mietitore. SCP pronto! Sì! Dica! Minerali insufficienti. Ampliamento completato. Se vale la pena. Ah, tutto qui. Credo che mi divertirò. D'accordo. Sì, certo. Ampliamento completato. Cazzo ha vinto lui. Vaffanculo. Potenziamento del centro di comando completato. Che succede? Va bene, come vuole. Che spaventare lo che ne valga la pena. Entra in azione. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Minerali insufficienti. Chi è che vuole prendermi? Sì, si è certo. Buon lavorone, eh? SCP pronto! Armato è pronto. Minerali... Potenziamento del centro di comando completato. Ampliamento. Minerali insufficienti. Energia insufficiente. Minerali insufficiente. Minerali insufficiente. Minerali insufficiente. Sicuro. In marcia. C'è bisogno di me. Energia insufficiente. Se vabbè. In marcia. Minerali insufficiente. Minerali insufficiente. agle riflessione. Minerali insufficenti. Minerali. Minerali insufficenti. Minerali gas Vespene. Spero che ne manca la pena. Minerali insufficenti. Minerali insufficenti. Minerali insufficenti. Minerali insufficenti. Minerali insufficiente. Mi imbro cada uno, la partita che... ... ... ... ... ... ... ... energia gas insufficiente allora energia insufficiente potenziamento gas insufficiente minerali insufficiente minerali insufficiente minerali insufficiente minerali gas insufficiente minerali insufficiente ok la terza non ce l'ho quindi che cazzo c'hai il fenomeno dei buttercruiser solito no? che aspetta che io lo attacco per controattaccarlo sicuro giacimento minerario esaurito minerali insufficiente minerali minerali insufficiente minerali insufficiente minerali insufficiente minerali insufficiente minerali insufficiente minerali insufficiente minerali insufficenti Minerali insufficenti Giacimento minerario esaurito Potenziamento del centro di comando Attento che poi torno Potenza neanche potenziate E adesso che c'è? Capito Potenziamento completato Giacimento minerario esaurito Minerali insufficienti La base è supportata Non c'è sul filofone, non pima non ecco! Che fenomeno! Non c'è il pipero. I nostri scv sono sotto attacco. Beh, un nuovo, un nuovo bene. Ricerca completata. Mi fa male da perduto! Sono necessari altri depositi. Qualcuno mi tiri fuori da quest'inferno. Gas di spaino in circuito. E' un nuovo. Penomeno qua, guà. E' un nuovo. Minerali insufficienti. Spero che è mai La base è sotto attacco La base è sotto attacco Una fumo La base è sotto attacco 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 C'è bisogno di me? Cattiva notizia eh? Facciamo le cose per te, ragazzi Sì Ti stavo aspettando Negativo, non si può fare Roger Si va La base è superata Ampliamento completabile Potenziale Potenziale Ci serve una mano qui Oh Ti stavo aspettando La potenza dell'userve metallo pesante Io cale Che succede? Spero 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 Si Spero Spero Pag. 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 Pag.